Musica Ben ritrovati con il telegiornale di Arezzo TV, oggi un grosso incendio, anzi scoppiato addirittura questa notte intorno alle 3 in Valdarno e poi c'è stata anche l'ordinanza da parte del sindaco di Terranova Bracciolini perché l'azienda interessata dalle fiamme appunto insiste in quel comune a causa dei fumi Vanno avanti da stanotte le operazioni di spegnimento dell'incendio che si è verificato all'interno del capannone della CRCM adibito allo stoccaggio di carta Siamo nel comune di Terranova Bracciolini Le fiamme sono divampate in un'area ampia e visto il materiale contenuto hanno avvolto velocemente l'immobile andando ad interessare in parte anche un'azienda confinante Anche la copertura del capannone è stata danneggiata in più parti Sul posto i vigili del fuoco di Arezzo e il loro supporto sono arrivati mezzi e uomini da Figline Valdarno, Prato, Firenze e Siena Le fiamme sono state domate ma ci vorranno ore per spostare la carta che era stata stoccata all'interno e bonificare l'area Non è ancora chiara l'origine del rogo Siamo preoccupati anche per il fumo? Sì, magari sapere qualcosa in più un guasterebbe, insomma, anche per la qualità dell'aria L'altro è preoccupato, ma è tossico o no? È carta quindi? Eh Va avanti da stanotte, giusto? Da stanotte le tre, all'incirca Voi operate solo qui in zona o ci abitate anche? No, ci si abita, noi ci si abita lì, qui c'è il lavoratorio, lì ci si abita E noi stamani ci siamo alzati, ci siamo aperte le finestre Sì, domani sarà qualcuno, qualche bravata Il comune ha emesso un'ordinanza che riguarda tutta l'area nel raggio di un chilometro dal luogo dell'incendio Ai residenti si raccomanda in questo perimetro di limitare le attività all'aperto Non consumare prodotti come frutta e verdura provenienti da colture che si trovano in questo perimetro E mantenere chiuse le finestre in caso di fumi persistenti Volevo fare una passeggiata, ecco perché mi sono mossa un po' tardi E allora sarà meglio che ritorni a casa, le dice Allora ritorno a casa, la ringrazio, le ho dette informazioni Mancano poche ore e Piazza Grande vivrà la sua emozione più grande Così tutta la città di Arezzo per la giostra del Saracino Una giostra tra l'altro particolarmente sentita Oltre al fatto che insomma è quella di settembre Come sappiamo quella un po' più tradizionale Ma la lanciadora è dedicata agli 800 anni dalle stimmate ricevute da San Francesco Quindi un trofeo quanto mai ambito Che i quattro quartieri si contenderanno domenica primo settembre Mentre stiamo andando in onda si è quasi conclusa la prova generale Della quale ovviamente vi racconteremo nelle prossime edizioni del nostro telegiornale Ma proprio per vivere al meglio la giostra appunto di domenica primo settembre Arrivano i consigli da parte del 118 Che ovviamente insieme a tutte le forze dell'ordine e alle associazioni di volontariato Ha messo a punto un piano di emergenza particolare Perché come sappiamo c'è anche la concomitanza della fiera antiquaria al Prato Come sono stati gli eventi nel tempo che vi hanno tenuto più impegnati Anche un po' più critici insomma rispetto alla giostra? Ma eventi nel tempo eclatanti non ci sono stati Perché bene o male il piano e il coordinamento con tutti gli altri enti deputati Quindi polizia, questura, prefettura, carabinieri Tutti gli enti vigili del fuoco C'è un'ottima sinergia che quindi ha fatto in modo che grosse criticità non ci siano Chiaramente gli eventi che ti ricordi un attimino Oltre al classico soccorso di persone che magari svengono per il caldo Oppure per la scarsa idratazione Sono i due eventi che da quando gestisco io il piano della giostra Sono le due cadute dei due cavalieri Quelli ti lasciano un attimo col fiato sospeso Perché comunque la velocità c'è C'è il cavallo Insomma la circostanza è un pochino particolare Però si sono rivelati poi senza eventuali problematiche per i cavalieri E anche per noi è stato un test per valutare la disposizione e le tempistiche di intervento Domenica sarà, dicono gli esperti, una domenica di grande caldo La giostra sarà in pieno pomeriggio, quindi consigli quali sono? Acqua, cappellino? Allora, cappellino, idratarsi bene prima di entrare Ripararsi bene dal caldo con abbigliamento leggero, non scuro perché attrae il calore Noi saremo in piazza prima dell'apertura dei cancelli Faremo la bonifica insieme alle forze dell'ordine a vigili del fuoco Saremo in piazza con almeno due equipaggi da subito Poi altri si integreranno con l'incremento dell'afflusso del pubblico E in questa circostanza voglio ringraziare le associazioni di volontariato Ampas, Misericordia e Croce Rossa Che ci danno il loro supporto indispensabile con i loro mezzi e i loro soccorritori Senza i quali non sarebbe possibile gestire la manifestazione E adesso invece torniamo a parlare della regionale 71 Che era andata agli onori delle cronache Per via delle lunghe file che si creavano Che si sono create durante questi giorni di estate Per via dei cantieri proprio lungo questa asseviaria così importante Che collega Arezzo con il Casentino Ma non solo Ebbene all'orizzonte c'è un altro cantiere Questa volta nel tratto tra Subiano Nord e Calbenzano Per permettere di eseguire parte degli scavi previsti Appunto in questo tratto Il cantiere si aprirà il 2 di settembre Sarà necessario istituire un senso unico alternato Insomma un'altra limitazione Ecco al traffico per la regionale 71 necessaria proprio per eseguire appunto questi scavi in sicurezza Il senso unico che avrà una lunghezza di 250 metri sarà mantenuto il tempo strettamente necessario proprio per eseguire questi lavori Ma tornando proprio lungo la regionale 71 c'è invece una notizia di cronaca Gravi violazioni sulla sicurezza nel cantiere del viadotto di Rassina lungo la strada regionale 71 A scoprirla nel corso di un controllo i carabinieri della compagnia di Bibiena assieme ai colleghi del nucleo ispettorato del lavoro di Arezzo Nel mirino il rispetto delle regole per la sicurezza nei luoghi di lavoro In questo caso le mancanze sono state riscontrate nei confronti di due aziende I militari hanno rilevato più di una irregolarità e così è scattata una denuncia ed alcune sanzioni L'amministratore unico della società che si occupa dell'opera è stato denunciato per violazioni delle normative sulla sicurezza del lavoro Tra le irregolarità riscontrate la mancata nomina del preposto L'omessa redazione del piano operativo di sicurezza ed altre gravi violazioni in materia di salute e sicurezza E' stata poi combinata la sanzione amministrativa di 2.500 euro all'amministratore di una seconda azienda Per non aver specificato la congruenza dei piani operativi di sicurezza delle imprese subappaltatrici rispetto al proprio Il cantiere per l'opera pubblica non è stato comunque fermato e i lavori per il completamento stanno procedendo E adesso invece parliamo di edilizia scolastica Sono partiti i lavori di ristrutturazione e ampliamento della sede centrale dell'ITIS Galileo Galilei di Arezzo Sono circa 1.500 gli studenti che dal prossimo 16 settembre frequenteranno l'istituto L'intervento comporta la demolizione peraltro già iniziata come vediamo nella foto E' la ricostruzione con l'ampliamento dell'ala prospicente via Piero della Francesca Che sarà completamente riedificata passando dagli attuali 2.000 a 3.800 metri quadrati Quindi quasi il doppio In modo da ampliare proprio la dotazione della scuola che sarà riedificata con struttura in legno E dotazioni impiantistiche finalizzate ad ottenere un edificio di elevata prestazione energetica Il progetto è finanziato con fondi del Ministero dell'Istruzione della provincia E prevalentemente fondi PNRR Un investimento complessivo di oltre 5 milioni e mezzo di euro Il termine dei lavori è previsto per il 2025 L'attrice Aretina Mina Kovacevic è la nuova presidente dell'Assemblea dei Soci Sostenitori della Fondazione Guido D'Arezzo L'elezione è avvenuta lo scorso mercoledì nel corso della riunione Dell'organo che racchiude i 41 soci dell'ente a cui il Comune di Arezzo ha delegato gli eventi appunto della cultura Quella dell'attrice e regista Aretina non è l'unica novità Nella stessa occasione è arrivata anche la scelta del nuovo membro del Consiglio di Amministrazione della Guido D'Arezzo Colui cioè che nel CDA rappresenterà i soci Dopo l'esperienza di Massimo Ferri arriva quella di Mario Bruni Già consigliere comunale e presidente della Commissione Assetto del territorio di Arezzo Apriamo adesso invece una pagina dedicata ai nostri giovani Partiamo da Rondine e dalla firma di questo protocollo in Regione Toscana Un accordo tra Regione Toscana e Rondine per la pace è una cittadinanza globale Un'intesa siglata Palazzo Strozzi Secrati che mira a consolidare l'impegno della Regione e l'esperienza internazionale di Rondine nata oltre 25 anni fa nell'omonimo Borgo Aretino che si impegna per la riduzione dei conflitti armati nel mondo e per la diffusione del proprio metodo per la trasformazione creativa dei conflitti il metodo Rondine Ormai si sprecano gli esempi di presidenti del Consiglio, di ministri di figure straordinarie come la Segre che a Rondine sono di casa e devo dire che mi fa molto piacere che con questo protocollo noi sviluppiamo delle azioni che possano portare a dare un senso ancora più istituzionale alla formazione e alla pace che Rondine può generare penso alle occasioni di incontro fra giovani palestinesi e israeliani penso alle occasioni per distendere quelle che sono le condizioni in Europa per superare l'occupazione russa dell'Ucraina penso a quello che attraverso Rondine la vocazione alla pace e alla cultura della Toscana può offrire veramente una realtà che è nata come esperienza intorno alla chiesa di Arezzo ma che attraverso una figura straordinaria come i Baccari sta diventando un riferimento a livello mondiale questo riconoscimento dà a Rondine e soprattutto ai giovani che si impegnano a Rondine in luoghi di grande coraggio, grande slancio e futuro perché insieme con la regione condividiamo gli stessi valori e quindi vogliamo creare un impatto culturale, formativo, educativo c'è bisogno di un nuovo paradigma per educare la pace la guerra non è alle porte solo in senso chilometrico è dentro di noi perché il mondo globale la fa emergere dentro di noi i sentimenti della guerra non possiamo difenderci facendo finta che questo non succeda dobbiamo agire in un modo rinnovato e ancora più forte e sono oltre 300 i ragazzi che sono arrivati da Trento che in questa settimana hanno visitato tutto il nostro territorio nel segno della pace hanno infatti visitato anche il Monte Sacro della Verna e non solo, questa mattina l'incontro con il nostro Vescovo Andrea abbiamo visitato la Verna, abbiamo visitato Camaldoli siamo stati alla Rondine e è stata un'esperienza molto bella perché io sono sempre sorpreso dai ragazzi contrariamente a quanto pensano a volte gli adulti io per me sono i migliori e anche in questi giorni ti sorprendono con la loro voglia di vivere ti sorprendono con la loro capacità anche di stare insieme 230 ragazzi adolescenti sono arrivati da Trento e hanno attraversato la provincia di Arezzo nei suoi luoghi sacri più importanti sulla Via della Pace un momento di accoglienza e di vitalità della nostra città perché quando si accoglie si ritrovano le proprie ricchezze le proprie potenzialità e poi è un momento di freschezza perché così tanti adolescenti portano vita, portano gioia, entusiasmo, voglia di camminare e per me come Vescovo, tra l'altro con l'amico fratello Vescovo Lauro che è il Vescovo di Trento è una bellissima occasione quella di poter incontrare così tanti giovani offrire loro una piccola testimonianza sul tema della pace e condividere questo tratto del loro cammino che vivono come esperienza estiva Qual è il messaggio che vorrebbe che questi ragazzi riportassero a casa? Ma scoprire che gli altri sono una risorsa siamo in un momento dove si percepisce l'altro come un competitor purtroppo molte volte come un avversario ma è come un compagno di viaggio Io in questi giorni ho insistito sul fatto di scoprire l'altro come quello che ti dà forza cioè gli altri sono la tua forza Da oggi Arezzo e Burbank, cittadina californiana della contea di Los Angeles sono gemellate nel nome della musica La cerimonia che ha portato alla firma dell'accordo proprio con la cittadina americana è avvenuta questa mattina nella sala del Consiglio Comunale tra il nostro sindaco Alessandro Ghinelli e la vice sindaca Nicky Perez L'intesa tra le due municipalità è nata nel marzo del 2022 in occasione della visita a Muse Expo la vetrina internazionale dedicata alla musica, i media e la tecnologia e ad essa relativi alla quale Ghinelli aveva partecipato insieme a Mauro Valenti Ci spostiamo adesso in Valdichiana perché è stato un altro grande successo di giovedì, sere d'estate a Lucignano Trampolieri, gonfiabili, laboratori, giochi e i personaggi più amati Si è chiusa così con il Lucipark, un appuntamento dedicato ai più piccoli la rassegna di giovedì, sere d'estate a Lucignano il cartellone di eventi che ha animato uno dei borghi più belli d'Italia per tutta la stagione estiva Un bilancio estremamente positivo ai nostri di giovedì nel 2024 luglio-agosto pieno di eventi, tanta musica, tanto buon cibo, tanta partecipazione quindi veramente siamo contenti anche quest'estate è stata un'estate con tanto turismo devo dire che ancora si registra tanta presenza e la presenza l'abbiamo dati che fanno ben sperare anche per i mesi autunnali Gli appuntamenti hanno visto la partecipazione di residenti e turisti in un vero e proprio viaggio tra tradizione, cultura e divertimento È stata un'estate bellissima, l'insegna di tanti eventi ricordiamo solo quelli che veramente ci sono stati più a cuore come il Secret Garden, lo spettacolo di fuoco ma ancora la scena di gala e questa bellissima chiusura, vedere tutti questi sorrisi, questo divertimento genitori e piccoli in mezzo al borgo è veramente uno spettacolo Passeremo prossimamente per i prossimi eventi perché dobbiamo pensare già a quello che accadrà domani perché nella prossima settembre ci sarà uno degli eventi culturali più importanti di quest'anno che è il Lucignano Music Festival Giunto alla quarta edizione ci sarà veramente della musica da camera di grande spessore Domenica prossima oltre alla giostra in Piazza Grande la nostra fiera antiquaria ci sarà anche la possibilità di visitare gratuitamente i musei così come vuole il Ministero della Cultura una iniziativa a cui aderisce anche Intesa San Paolo con tutte appunto le sue gallerie per Arezzo significa la Casa Museo dell'Antiquariato Ivan Bruschi che appunto aprirà le sue porte gratuitamente la gattina abbandonata in A1 a Monte Stanzavino e poi adottata dagli agenti della Polizia Municipale dello stesso Comune si chiamerà Paletta l'abbandono risale a qualche giorno fa a seguito della segnalazione la gattina era stata soccorsa dall'associazione Casa Maue affidata per le prime cure alla clinica veterinaria Santa Cristina di Monte Stanzavino che aveva anche sostenuto le spese per il primo intervento poi la decisione appunto dell'adozione da parte degli agenti savinesi e noi proprio domani andremo a conoscere Paletta con le nostre telecamere insomma vi proporremo un servizio proprio su questa bella storia ed infine parliamo di sport perché è arrivata al termine la seconda settimana di lavoro per la BC Servizi SBA che agli ordini dello staff tecnico capeggiato da coach Fioravanti sta sudando proprio sul parquet del Palasport Estra in attesa del primo impegno di campionato che ci sarà il 29 settembre contro la Menzana Siena prima di questo però alcuni incontri appunto sempre un po' di preparazione la prima uscita è in calendario per mercoledì 4 settembre alle 20.30 al Palastra contro il Perugia sabato 7 invece la BC Servizi affronterà in trasferta il Golfo Piombino venerdì 13 altro confronto esterno a Ponte San Giovanni contro il Val di Ceppo ultimi due impegni il 18 settembre sempre al Palaestra alle 20.30 contro la Dukes Sansepolcro di Serie C e sabato 21 alle 17.30 contro il Palestrina è tutto per questa edizione del nostro telegiornale grazie per la cortese attenzione arrivederci grazie a tutti